Siamo a Milano, Cascina Bellaria 90, dove c'è questa splendida festa dell'ASAP, un'associazione che aiuta gli anziani. Oggi ci saranno minimo 150 anziani, persone veramente sole, persone che non hanno nessuno e ci sono questi splendidi volontari, il maestro Stefano Festa, che hanno organizzato questa giornata insieme a cantanti e musicisti per non farli sentire soli. Quindi penso che sia una bellissima iniziativa natalizia. Se vogliamo entrare diamo un'occhiata un po' a quello che succede.